salve a tutti io sono stefano zenni e sono qui per ricordarvi che venerdì 10 alle 19 all'auditorio un parco della musica di roma faremo un breve incontro per raccontare i tre brani che verranno eseguiti dall'orchestra con jacob russa sul podio all'interno della stagione sinfonica di santa cecilia tre brani uno più trascinante dell'altro uno più visionario anche dell'altro sono la cuba nuverture di george gesh in una specie di apoteosi della danza in particolare delle danze antillesi le danze sinfoniche di sergei rakmaninoff ricche di chiaroscuri a tratti anche molto drammatiche è un brano di musica contemporanea il concerto del pianoforte di mason bates un compositore statunitense che ha scritto una pagina scintillante molto trascinante piena di ritmi jazz ritmi cubani e immagini anche romantiche visionarie quindi una perfetta sintesi in un certo senso moderna tra rachmaninoff e gershwin quindi ci vediamo venerdì e poi ci vediamo naturalmente a questo concerto interdibile buona giornata a tutti interdibile buona giornata a tutti